di nuovo ben trovati di nuovo allora andiamo avanti con la gara il diciottesimo cantante in gara è che succede che c'è cosa che c'è il meraviglioso problema tecnico eravamo andati lisci fino adesso e non è avvenuto non c'è ma che è successo e dobbiamo questa sai quando hanno inventato la frase il bello della diretta ma chi ha inventato esatto dobbiamo fare facciamo un mostro dobbiamo è il pippo l'ha inventata ho inventato io l'ho inventato tutto io inventato che facciamo la cosa bella la cosa bella di fare una prima volta non ti preoccupare prima sera è che comunque con baglioni voglio dire un tamburello una cosa c'è avete il pianoforte lì brem 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 una chitarra dai vedi che l'abbiamo risolta facciamo entrare il pianoforte così dobbiamo riempire ci allieti scusate ma usate accade ecco i nostri migliori uomini grazie scusate dell'imprevisto scusate il disturbo e grazie del divertimento che poi è il contrario invece però allora canzoni per riempire a così ci abbiamo proprio la playlist canzoni per riempire a gentile richiesta a gentile richiesta mi veniva più in mente quelle che ci dà piano festival tipo you must remember this and kiss on my knees però se mi permette se mi permette lei ha insistito tanto sulla musica italiana ma è vero sì mi sono dato la zappa sui piedi è un po' sì ehm che resta ti de nos amour che resta ti de se bojo se mi ripermette cioè abbiamo e mi sembra che facciamo una cosa però lei io rintuzzo io rintuzzo però facciamo una cosa nostra diciamo però per carità fateci sapere quando si è risolto ecco sì noi riempiamo un po' ma adesso si è di ti su quella seggio ma stavolta ascoltami senza interrompere è tanto tempo che c'ho un'idea volevo dirtelo che Francesco non mi lasciar solo arrivo vivere insieme a te è stato inutile tutto senza allegria senza una lacrima Stefania niente da aggiungere da dividere nella tua trappola ci sono caduto anch'io Stefano Sabrina avanti nel prossimo mi lascio il posto mio povero diavolo che pena mi fai quando ho letto lui ma quanta gente ti chiederai Massimo ti lo concederai perché tu fai così ancora altri come sai fingere ma stiamo riempiendo proprio se ti fa comodo adesso so chi sei e non ci soffro più e se verrai di là te lo dimostrerò e questa volta tu te lo ricorderai scogliati come sai fare tu e non illugerti io non ci cresco più tu mi rimpiangerai per la senza di me la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bellissimo. Ma quanta bella gente. E' proprio perché è così bello, buonasera maestro Gabriele Muccino, mi piacerebbe presentarmi come se fosse musica, posso? E allora di Gabriele Muccino, a casa tutti bene, con Stefania Sandrelli, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Giulia Michelini, Valeria Solarino, Stefano Corsi, Pierfrancesco Favino, Massimo Ghini, Ivano Merscotti, Gianpaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi. Dirige il maestro Gabriele Muccino. E' visto che saranno in sala dal 14 di febbraio, vi diamo anche un piccolo assaggio di quello che andrete a vedere. Ma non vorrei che tu... Ma sapeva della vicinozione così? E' bravo, Raffaele. E' bravo, Raffaele. E' bravo, Raffaele. E' bravo, Riccardino. E' bravo, Riccardino. E' bravo, Riccardino. Scusatela È un grande onore per me È una grande emozione e un grande onore Scusami Che bello, brother, che facciamo questa cosa insieme Scusate, io la conosco da tanto Sono tanto felice No, Sabrina, non ti accasciare sul mio microfono Cioè, tu sei al dopo festival Questo è il festival, assicuro Ma tu non lo sai, io ho appena firmato il contratto Io sono felice per te, però Te lo spiego, no, ma te lo spiego io Te lo spiego, scusate Non ti preoccupo, vieni con me È bello C'è Edoardo Leo Ben tornati al festival di Sanremo E concedetemi Ho sempre sognato Avere un primo piano con Stefania Sandrelli È davvero uno